Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori, un fulminaccio al sereno, affunestato il cielo del mondo della musica mondiale. Qualche minuto fa è appena giunta in redazione una notizia della tragica scomparsa di un big della musica mondiale e prima di saperne di più vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo in questo video con grande dispiacere annunciamo la scomparsa di un grande cantante di un grande chitarrista nelle scorse ore ci ha lasciato Danny Lane aveva 79 anni per chi non lo conoscesse o semplicemente per chi non lo ricordasse diciamo che Danny Lane cantante britannico è stata la voce dei Moody Blues e il chitarrista dei Wings group che ha cofondato con il grande Paul McCartney e proprio l'ex Beatle ha voluto ricordare il suo grande amico lo ha fatto con un accorato post Paul McCartney ha dichiarato pace amore Danny è stato un piacere conoscerti mancherai a tutti noi queste sono state le parole del grande Paul McCartney che ha ricordato il suo amico fraterno Danny Lane ricordiamo mancato nelle scorse ore ha 79 anni a causa dell'aggravarsi di una malattia polmonare amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi anche sui canali youtube secondo canale di Marco Liguori e Marco Liguori psicologia e crescita personale ciao ciao